Sono stato felice di aver pubblicato e se nel giallo ti vedrò di Marcello Buttazzo con prefazione di Roberto Dall'Olio e Vito Antonio Alconte. Gabriele D'Annunzio diceva la gioia, la gioia, la gioia a questa invincibile creatrice. Io dico invece per questa raccolta di versi di Marcello Buttazzo l'amore, l'amore, l'amore a questa invincibile creatrice e la vita, la vita, la vita a questa invincibile creatrice. Già, perché sono due elementi che ricorrono spesso tra i versi di Marcello Buttazzo, che ormai è un lessico e un gestire la composizione poetica tutto suo, tutto particolare, tutto personale. E soprattutto quello che incuriosisce è il fatto di una vera e propria capacità di cogliere la bellezza di quello che per noi è insignificante, come può essere lo sbocciare di un fiore, oppure l'aurora, o il tramonto, o il palpitare di un gesto d'amore. Marcello Buttazzo scrive anche per gli ultimi, scrive anche per i disastri delle guerre, come quelle che accadono a pochi passi da noi, come quella in Ucraina appunto. La raccolta veramente è degna di essere letta, soprattutto assimilata e che ci fa comprendere come la speranza anche nelle piccole cose, non nelle piccole cose di pessimo gusto, ci può far andare avanti in maniera più serena.